Pronto? Ciao mamma, sì Eh, lo so, volevo raccontarti perché ho messo quell'annuncio però mi aspettavo alcuna critica da parte tua cosa vuole che ti dica? Però lo sai che il mio sogno sarebbe diventare attore? Certo Ah, grazie per l'incoraggiamento Già, io ero sicuro che non mi avrebbero le chiamate e tu mi dici che sicuramente non mi chiameranno Grazie, perfetto Sì Beh, senti, facciamola finita non parliamoci più, va bene? Ok, cavolo Avevo lasciato la webcam aperta